Ed ero ospite di una trasmissione di Fabio Fazio e ad un certo punto Fabio che sapeva questa cosa mi ha detto scusa ma mi dici dove è tuo figlio adesso, prendi il telefono. È nel college adesso, oh oh, è nel dormitorio delle donne. Mamma felice, figli sereni. Questa frase me l'hanno detto credo un miliardo di volte da quando sono incinta. Che dite, magari me la posso tatuare? La serenità di mia figlia chiaramente sarà una priorità, ma è il fatto che derivi dalla mia di serenità che mi preoccupa. Certo che questa storia di diventare genitore, ragazzi, mi sta già mettendo a dura prova. Come si fa ad essere sempre felici? È impossibile. E soprattutto, secondo voi è giusto proteggere i figli dalle emozioni negative? Oggi sono domande esistenziali per me, sì, lo so. È proprio vero che gli ormoni in gravidanza fanno dei bruttissimi effetti. Comunque, la cosa che so è che voglio fare di tutto per essere la migliore confidente per mia figlia. Sono pronta per il sequel di Una mamma per amica. Eh, ma se poi lei non vuole, magari sarà la migliore amica di suo padre? O forse di Lillo. Vabbè, ma tanto siamo sempre in famiglia. Allora, oggi facciamo fatica a stare zitto, a fare un inizio vero, preciso. Io volevo dire, con la boomer più figa d'Italia, finalmente lo posso dire, ma stiamo parlando da due ore. Da due ore, non riusciamo a smettere e ci stanno continuando a dire, dobbiamo cominciare. Esatto, il podcast è iniziato già. Poi già dal camerino su, dalla prova vestiti. Sì, abbiamo fatto anche la prova vestiti insieme con Alessia Marcuzzi. Ciao Ale. Ciao, ciao, mamma dilettante. Ti piace? Ma sei una dilettante? Molto, sono molto dilettante. Mi sento veramente alle prime armi e per questo che voglio chiedere consigli a tutti. Capirai. Tu come sei? Tu sei mamma. Ormai da tanto e alcune cose non le ricordo neanche più, perché Mia ha quasi 12 anni, Tommaso 22, quindi è passato un sacco di tempo. Dalla gravidanza. Però allora anche io come te, mamma dilettante, perché l'ho avuto Tommaso giovane a 28 anni, che per i nostri genitori non ero giovane e tutto quanto, però adesso avere un figlio a 28 anni comunque è presto. È giovane. E non sapevo nulla e non ero neanche una così esperta. Io sono un po' maldestra, no? Quindi avevo anche molta paura di non saper fare le cose bene, perché poi vedete anche invece amiche che sono, capito, anche… Oddio, a me quelle amiche mi mettono un'ansia. Sono precisi. Mamma, quelle che sanno tutto. Ancora non hanno provato niente, ma già sanno tutto. Però quella è un po' indole, secondo me, di Letta. Io di natura sono maldestra, sono molto maschiaccio, quindi comunque sapevo che sarebbe stato un momento un po' destabilizzante per me, perché non essendo precisa, in quel momento lì ti senti che tutta l'attenzione è verso tuo figlio e quindi devi fare le cose fatte bene. E invece ci sono delle persone che lo sono di natura e quindi magari viene tutto più naturale. Ma quindi poi è vero quella cosa che appena nascono impari. Cioè appena nascono ti viene naturale. Non proprio. No, no. È vero che sì, poi l'istinto materno ti viene, ce l'hai già quando sei come te incinta e convivi con un esserino nella pancia, per cui poi quando non c'è più ti senti anche un po' sola in alcuni momenti. Sì? Tu hai avuto un momento che ti mancava la pancia? Sì, a me è successo. È successo, devo dire, anche con la seconda gravidanza, con mia che invece è stata una grande rompiscatola in pancia. Quindi uno pensava, diceva, vabbè non mi mancherà mai quello stato di continuo movimento e nausea, perché io con lei ho avuto un sacco di nausea. Eh, mi dicevi che durante il Grande Fratello dovevi andare a mangiare crackers e cose. Sempre, sempre. Cercavo di trovare qualunque cosa potesse farmi passare la nausea, perché poi leggi sui blog, te lo dice magari la ginecologa piuttosto che il dottore. Però poi ognuno di noi ha una sensazione particolare, per cui quello stato di quella nausea lì te la fai passare con lo zenzero piuttosto che il biscotto, il cracker. E quando facevo il Grande Fratello dovevo allontanarmi ogni due secondi perché lei si faceva sentire. Ah sì. Però quando ho partito mi è mancata questa, capisci? Me la ritrovo grande. Però in qualche modo quella sensazione di non averla più con me, con tutti i suoi calcetti, le sfaccettature, le cose. Sì, perché in qualche modo ci inizi a conoscerli già adesso, si fanno capire. Cioè io la capisco già adesso. Sì, è vero. Mi dà delle indicazioni più o meno, cioè sì, sulla fame, sul basta adesso devi tornare a casa, sono stanca. Sulla stanchezza. Sì, sulla stanchezza, è vero. Però tu sei stata brava perché hai lavorato fino alla fine praticamente. Dunque sì, ho il Grande Fratello, mi sembra sì, di aver lavorato praticamente quasi tutti i mesi. Ti dico, veramente non mi ricordo tutto perché è passato un po' di tempo. E mi ricordo di aver dato anche la notizia della mia gravidanza in onda con i ragazzi che erano dentro la casa. Ah. E ho salutato i ragazzi, ho detto ragazzi, vi devo dire una cosa. E tutti hanno cominciato a dire, sei incinta. Ti dico, è che cavolo. Sì, però credo di averlo adesso, non me lo ricordo bene, ma ho lavorato quasi fino alla fine. Nonostante le nausee e comunque il lavoro e l'adrenalina del nostro lavoro, stare sul palcoscenico, comunque mi aiutava molto perché in quel momento non avevo il tempo di stare male. Quando sei sul palco, come gli sportivi anche, no? È vero. È vero questa cosa. La febbre ti passa magicamente. È vero. È incredibile. E quindi quello mi ha aiutato. Però lei si è fatta sentire parecchio, mentre Tommy no, è stato più bravo. È stato più bravo? Sì. E invece Tommy ha 22 anni. Tommy ha 22 anni. È un uomo, è un ragazzo. Ormai è un ragazzo, un uomo. Vabbè, la differenza fra maschio e femmina è abbastanza lampante. Se parli con, non so se hai già parlato con altre mamme, immagino di sì, ma te l'avranno detto tutti che è proprio un mondo, siamo due mondi completamente diversi. È più sempli. Cioè, come lo descriveresti? Noi siamo più contorte. Noi se dobbiamo fare da A a D facciamo A, C, B, D. Certo. Loro fanno A, B, C, D. È tutto molto lineare. Ma sai che mi spiegavano che anche per questo una gravidanza di una femminuccia è un po' più complessa? Perché crei comunque un corpo più complesso. Troppi ormoni femminili tutti insieme. Esatto. Tutto troppo esplosivo. Però non è... Allora, fisicamente non è il tuo caso, perché di solito chi ha una bambina in grembo di solito si allarga un po' di fianchi, no? Proprio per il fatto degli ormoni. Così. Eh, e invece questa pancia tua è un pochino a punta, come il maschietto. Quindi sei stata fortunata anche in questo. Ancora non lo so, magari esplode all'improvviso. Magari domani mi sveglio. Sai da cosa te ne accorgi? Da cosa? Dalla bocca e dal naso. Che succede? Io sembra che sia espertissima di... Come se fossi tipo... E invece questa è una cosa che è successa a un sacco di mie amiche, che comunque, ma proprio gli ultimi giorni prima di partorire, ti diventa una boccona gigante, il naso anche un po' largo e la gente che ti vede dice stai per partorire, cioè quelli che i medici te lo dicono anche da quello. E ti è successo in tutte e due le gravidanze? Sì, 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 vero. E ti sono aiutato il roburro. Io già mi sento un po' così, eh, ti dico. Tutte e due siamo un po'... Sì, mi sento un po' così, cioè non è che mi sento proprio agilissima. Già adesso in questa fase. Perché sei al settimo. Al settimo. Sì. Ma è normale, dai. Poi noi ci siamo incontrate a Londra, lo dicevamo prima, ad Halloween. Che ancora non eri incinta. Che ancora non eri incinta, no? Poi adesso ci ritroviamo invece con questa notizia. Io sono stracontenta che ci sei tu, perché comunque tu hai vissuto e anzi adesso stai vivendo anche la bimba, cioè la fase poi di crescita di una bimba. Che è diversa, è diversa perché, come ti dicevo, noi femmine siamo più cerebrali in alcune cose, per cui ci facciamo anche dei film, no? E quindi è tutto più, un po' più faticoso. È un mondo meraviglioso, però un po' più faticoso da gestire, anche nel rapporto con la mamma, no? Proprio perché a volte ci sono dei contrasti molto forti. Che bimba è Mia? È mia, è una bimba molto decisa. Quindi bisogna starle molto dietro, perché bisogna darle delle regole, nel senso che almeno per quanto mi riguarda penso che sia giusto così, perché lei tende proprio a prendersi tutto. È nella fase della preadolescenza. Comunque proprio è un po' più complicata, perché io mi ricordo che Tommaso, io uscivo a cena, facevo le mie cose, Tommaso piangeva, fino a 13 anni è attaccato alla porta, devo uscire, mamma ti prego. Lei? No, no, ma quando torni? Oggi sono qua a Milano, io abito a Roma, no? Gli ho detto, guarda mamma torna domani, non ti preoccupare. No, no, ma stai eh, stai due o tre giorni, cioè proprio, c'è questa cosa della ragazza subito, capito? Loro vorrebbero subito… Indipendenza. Sì, e lo vedo anche nelle ragazze della sua età, non solo l'indipendenza, ma già cominciare a truccarsi, già vestirsi con la pancia scoperta, fare delle cose che si sono un po' anticipati i tempi, cioè le dodicenni di adesso sono un po' come forse le sedicenni ai tempi miei, e quindi questa cosa va controllata, non va bene, cioè nel senso ogni cosa ha suo tempo. Ma lei ha già le idee chiare, sa già cosa vuole fare o ancora… Lei dice che vuole fare l'attrice, e lo fa per me, dice, perché rompo talmente tanto le scatole la notte degli Oscar che tengo tutta la casa sveglia con i fazzolettini a piangere, perché io volevo fare l'attrice e volevo prendere l'Oscar nella mia testa. Allora lei dice, lo farò io per te, mamma. Vabbè, ma ancora c'è qualche chance. Sì, ma non si sa mai nella vita, certo. Io non la blocco su nulla, però le dico, prima devi studiare, fare il tuo percorso e poi vedrai… Bello, quindi lei già le è chiare a 12 anni, vedi? Sì, fa le imitazioni di tutti. Quello in cui l'ho preso un po' da me, perché io quando ero piccola facevo imitazioni in continuazione ancora adesso, e le facevo anche a scuola, all'ora di ricreazione. Io mi fermavo tutta la scuola, veniva a vedere, io imitavo tutti i professori, chiunque. E lei questa cosa ce l'ha, tantissimo. Ma infatti ho visto che fate tanti TikTok insieme. Sì, lei mi insegna, perché io sono boomerissima in quello. Tu sei boomer. Niente, l'audio, come si mette, poi torno in intro. Poi siccome li curo proprio io i miei social, perché sai, non ho nessun social media che mi fa le cose, le faccio io. Allora io, come si fa adesso? Mamma, sei proprio imbranata. Sì. Cioè, loro sono proprio veloci in questo, io sono un disastro. E invece Tommy, raccontami di Tommy, che ha 22 anni, che ormai è un ragazzo. Un ragazzo, adesso lavora qui a Milano. Il rapporto con Tommy, devo dire che è diventato stupendo da quando lui ha compiuto 19 anni. Perché poi non so perché tutti ti dicono, guarda, che i ragazzi sono un po' problematici nella fase dai 15, 16, fino ai 19. Io ho sempre detto, ma perché fino ai 19? Cioè, qual è questa cosa che non… Perché no, 20 o 18. Succede qualcosa. Però è successo così. Davvero? Cioè, anche a me e a lui, ho notato che da quando ho compiuto 19 anni, quella ribellione, quella fase un po' adolescenziale, così, di contrasto e cambiata. Adesso siamo quasi amici, nel senso che sono sempre la sua mamma. Però c'è quell'atmosfera bella per cui ci raccontiamo le nostre cose, la fidanzata, e poi usciamo insieme. Ieri eravamo qua a Milano, siamo andati a prendere il gelato insieme. Ci siamo fatti un sacco di risate, è molto bello. La fidanzata? È fidanzata? Sì, è fidanzata da… E tu come l'hai presa? Io sono proprio super amica delle fidanzate di mio figlio. Ah, non sei gelosa? No, zero. Sono un po' atipica da questo punto di vista. E mia è gelosa invece? Mia è gelosa di tutto e di tutti. Ecco, quindi figura, il fratello maggiore non si tocca. Anche se anche lei va molto d'accordo con le fidanzate di Tommaso, perché ne ha avute un po' di fidanzate, Tommy. Beh, comunque, un metro e novanta? Un metro e novanta cinque. Un metro e novanta cinque, bellissimo. È proprio un gigante. Sì. Però io non lo so, io ho questo rapporto molto da sorellanza, in generale con le donne, con le amiche e anche con le fidanzate di Tommaso, perché se immagino la suocera, nell'immaginario di tutti noi, sempre un po' rompipalle, io non voglio essere considerata così. Quindi sei la suocera che tutti vorrebbero avere. Ma lo spero, non lo so. Io certe volte vado più d'accordo con loro che con Tommaso. Io do manforte a loro, sono sempre dalla parte delle donne. Infatti Tommy me lo dice, ma basta. E lui quando è andato via di casa, tu come l'hai vissuto? Lui è andato via presto, perché lui è andato a studiare a Londra che aveva 16 anni, quindi ha fatto gli ultimi due del liceo lì e l'università a Londra. Ma è stata una sua scelta. Io avevo casa lì, quindi eravamo già fortunati perché comunque avevamo una base a Londra. Quindi l'ho accompagnato in questo percorso di boarding school due anni, dove io lo dovevo vedere il weekend, ma siccome lui faceva un po' il monello a scuola, aveva gating, che vuol dire che quando tu non ti metti la cravatta la mattina preciso, fai delle cose che non devi fare, non ti lasciano uscire il weekend. Dove lui poteva venire a casa e potevamo stare insieme. Lui aveva gating in continuazione. Era tremendo. Guarda, ti dico solo che una volta, siccome io avevo la classica applicazione sul telefonino per controllare dove fosse, perché poi alla fine tutte le mamme ce l'hanno un po' questa cosa, soprattutto quando i ragazzi sono più giovani per capire che cosa stia. I movimenti. Sì, i movimenti. Pensa per loro, poveracci, veramente. Mamma. Ed ero ospite di una trasmissione di Fabio Fazio e ad un certo punto Fabio che sapeva questa cosa, mi ha detto, scusa, ma mi dici dove è tuo figlio adesso, prendi il telefono. Io ho preso il telefono, ho guardato, mi sono dimenticata per un momento che lui potesse sentirmi o comunque che tutta l'Italia mi stava guardando. Io ho guardato, faccio, è nel college adesso, oh oh, è nel dormitorio delle donne. No, ma tu riuscivi a vedere questo? Sì, perché io sapevo come era fatta la scuola. Era proprio geolocalizzato. E sapevo, esatto. No vabbè, e l'hai detto in diretta. Sì, però lui non l'ha mai saputo, credo. Ecco, però adesso lo dico a te. Lo saprà. Vabbè, è una cosa perché... Ora è andata in prescrizione questa cosa, siamo a posto, superata totale. Superata. Questo era l'inizio, insomma, per gestirlo un po'. Sì, per gestirlo un po', perché Tommy è molto vivace, molto simpatico, devo dire la verità, e quindi faceva un po' di casino e ogni tanto rimaneva quindi a scuola. Però è stata una scelta che ha voluto fare lui, questa degli ultimi due del liceo lì. Si è trovato bene, poi ha fatto l'università lì, devo dire che abbiamo avuto anche le possibilità economiche di mandarlo a studiare, perché insomma non è semplice, perché comunque sono delle scuole anche costose. Poi anche un po', non solo a livello economico, soprattutto psicologico, il fatto di non vederlo più a casa. È vero che si è dicenne, però... Perché poi è un altro comunque paese, nel senso, non è soltanto... Sì, io avevo la casa lì, quindi noi in Londra la conoscevamo molto bene, e comunque è una seconda casa per noi, però era strano non averlo più a Roma con me. C'è avuto quel momento quando si è entrata nella sua cameretta che hai detto... Sì, sì, no, abbiamo pianto, sia io che Simone, mi ricordo quando l'abbiamo accompagnato anche a Londra. L'ha visto? No, quando siamo andati via, sì sì. E anche Paolo, che comunque se l'è cresciuto per una parte di tempo, e anche lui, mi ricordo che piangevamo tutti, e lui non l'ha visto, però... No, lui non si è accorto. Eravamo un po' emozionati. E lui ha pianto, secondo te, qualche volta di nascosto? Sicuramente, sì, però stava bene, altrimenti io non ce l'avrei fatta a lasciarlo lì, anche perché è stata una scelta particolare, e non tutte le mamme magari avrebbero preso la decisione di mandarlo a studiare fuori, però se avessi notato un disagio, forse non ce l'avrei fatta a lasciarlo lì. Lì non devi essere egoista, cioè lì devi pensare al bene di tuo figlio e dire ok, io dentro ho un vuoto e un buco nello stomaco, però lo amo talmente tanto che sono contenta. Era una cosa che voleva fare lui, quindi è vero, in quello devi... Brava, hai detto la cosa giusta, che a volte noi pensiamo troppo spesso alle regole, alle cose che dobbiamo fare, a quello che è giusto per i nostri figli, così. In realtà bisogna anche un pochino ascoltarli, accompagnarli in un percorso che vogliono fare loro, ma l'ascolto è fondamentale sempre, diletta proprio la chiacchiera, parlare con loro, non essere troppo amici secondo me, perché poi dopo si scambia, si scambiano troppo i ruoli, però, e quindi le regole sono fondamentali, però ascoltarli. E quanto sei orgogliosa di lui? Tanto. Tanto, eh? Sei laureato, no? Sì, sei laureato, sì, a Londra. I figli sono l'amore più grande della nostra vita e sono anche un po' i nostri tiranni, questo lo scoprirai fra poco. Non ti voglio dire una cosa brutta, perché la parola tiranno non è una bella parola, però... Un pochino mi hai spaventato. No, non ti voglio spaventare, è solo per dirti che veramente sanno come gestirci molto facilmente, perché è un amore talmente grande che non riesci a controllare. Per me è l'amore più grande della mia vita, no? A volte in questo bisogna stare attenti anche con il proprio uomo, perché è un amore talmente... Che va oltre. Che va oltre, che è diverso dall'amore per una persona con cui si sta insieme, però supera tutto. E superando tutto, in qualche modo fusca la gestione familiare, perché loro, capito, sanno che ti possono comandare, se non riesci a tenere un po' le redini della situazione. Quello è l'unico problema. E forse è un amore talmente grande che poi si riesce anche ad avere delle famiglie allargate, come la tua, ad avere un equilibrio bello, condividerlo, no? Molto, e tanto lo facciamo noi donne. Perché io sono molto più amica di Gaia e Vilma che di Simone e Francesco, no? No, in realtà no, ci vogliamo tutti molto bene. Ma tu sei nata al matrimonio di... Io sono nata al matrimonio di Gaia, ma non sono stata testimonia, perché hanno scritto così su qualche giornale, lei aveva le sue migliori amiche a testimonia, non ero io a testimonia. Ah, non eri tu a testimonia. No, no, ci tengo a precisarlo perché hanno scritto dappertutto che... Che fossi la testimonia, ma ci dispiace per le sue amiche del cuore. No, sarebbe stato stupendo, cioè proprio quella era il massimo. Però è stato un bellissimo matrimonio e sono andata. Ma noi abbiamo passato anche tanti Natali insieme, anche con Francesco e Vilma. E io vado tanto d'accordo con Gaia e Vilma, perché la nostra gestione familiare dipende molto anche da noi. Certo. E loro sono due donne intelligentissime, perché hanno saputo trovare il giusto equilibrio e la giusta cosa. E poi tanto lo fa anche l'aspetto economico, questo bisogna dirlo di Letta, perché alla fine quando mi dicono che brava che sei con la famiglia allargata, tutti grandi sorrisi, grandi abbracci e tutto, sicuramente nel nostro caso non c'è un disagio economico e non c'è neanche forse un amore finito male, che in tante situazioni... Però c'è anche tanta intelligenza, secondo me, da parte tua. Soprattutto da parte tua. La voglia di stare bene. No, no, da parte di tutti, guarda, davvero. È la voglia di stare bene e di vedere sereni i ragazzi. Sì. Perché principalmente è anche l'amore nei loro confronti che ci spinge poi ad essere uniti. Quindi io, tante volte, se Francesco non mi risponde, anche Simone che lavora tanto così, io parlo con Vilma o con Gaia, ci mettiamo d'accordo noi sulle cose e tutto diventa più facile. Questa cosa è molto bella, cioè sono molto fortunata. Ed è un esempio bellissimo anche per i tuoi figli, secondo me. Sì, perché sembra che ci sia una grande armonia. Armonia, esatto. Cioè, sono tutti... Guarda, è molto... È davvero molto bello. Cioè, mi emoziona sempre quando riusciamo a stare insieme, a passare del tempo insieme, con tutti i fratelli, no? Perché Mia ha due fratelli, Vilma e Francesco hanno avuto altri due figli. Poi Vilma ha un'altra figlia da una precedente relazione. Quindi, e questa ragazza comunque è come se fosse la sorella di Mia, è uguale con i figli di Gaia e Simone. Siamo un gruppone. È un gruppone, cioè sono super moderni. Penso che anche io vengo da una famiglia così. E mia madre, tantissimi anni fa, che arriva dalla Sicilia, quindi comunque, sai, un contesto un po' diverso, con dei nonni molto rigidi, lei è riuscita a creare questa armonia. E io sono nata in una situazione di totale armonia, in una famiglia allargata, perché ho tre sorelle, un fratello, ma tutti da vari matrimoni un po' diversi, sia da parte di mia madre che di mio padre. Non lo sapevo questa cosa. Ecco perché sei così paciosa, serena. Tu sei sempre, ogni volta che ti incontro, sei sempre molto, emani molta tranquillità. Sì, può essere. E quindi può darsi che magari questo... Questo marasma, no? Questo marasma, però che no, che i tuoi genitori, che la tua famiglia ha creato intorno a te, ti ha reso una persona serena. E mia sarà così. Serena, speriamo. E Tommy sicuramente è già così. Lo spero. Dai, dimmi una cosa bella è una cosa brutta di quella che mi succederà a breve, visto che ad agosto qui la ragazza verrà a trovarci. Vabbè, le nausee è già una cosa che hai passato, perché per me è stato un problema enorme, quindi... Con la femminuccia, però con Mia. Con la femminuccia, con Tommy no, solo i primi tre mesi, poi benissimo, invece con Mia è stato veramente un disastro. Allora, partiamo dalla cosa brutta, così ce la togliamo subito e finiamo con la cosa bella. I sensi di colpa? I sensi di colpa sono una cosa che noi genitori non ci toglieremo mai, secondo me, neanche dopo e neanche quando i figli sono grandi, ma soprattutto quando partorisci, perché se sei una mamma che lavora, che ha delle esigenze, ovviamente quando lasci tuo figlio o tua figlia a casa per delle ore ti senti sempre di... quasi di abbandonare, di fare qualcosa di sbagliato. Ma un po' sempre, cioè il senso di colpa nei confronti di un figlio è una cosa che succede spesso e su cui bisogna lavorare tanto, perché poi il senso di colpa ricasca su di loro. Quindi bisogna cercare sempre di prendersi il proprio tempo, se si riesce, ma anche se si lavora e una donna vuole lavorare dopo una gravidanza, deve sapere che è una fase della vita e che bisogna farlo e che non succede niente al nostro figlio a livello emotivo e psicologico. Ah, sì, secondo me è positivo. Una mamma serena rende sereno anche il proprio figlio. Poi è logico che se si è fortunati e si hanno degli aiuti e tutto, è tutto più facile. Poi invece quando la situazione è così, è meno florida, è tutto un po' più complicato da gestire perché lo senti da tante mamme che raccontano. Però il senso di colpa è una cosa comune a tutti, perché quella è una cosa psicologica, quindi indipendente dalla situazione economica. Comunque il senso di colpa è una costante. Il senso di colpa, se non si ha il latte, se non ha fatto il riposino nel momento giusto, cioè un po' questa cosa di non fare le cose fatte bene crea a livello psicologico ogni tanto delle cose che ti fanno stare male e quello bisogna cercare invece di evitarlo. Di gestirlo. Di gestirlo, perché poi alla fine hai ragione tu, l'istinto materno ti viene e le cose si imparano facendole e quindi quello non ti deve spaventare, perché io ero spaventatissima e mi ricordavo, avevo paura, doveva fare il ruttino, e se lo mettevo nella posizione sbagliata e se quando dormivano lo mettevo a destra o a sinistra Ma perché sono minuscoli poi? Perché sono minuscoli, però. Non sai come gestirli. E quindi quella è la paura, però è la paura di tutte le mamme. Ma ti manca un pale? Questo esserino piccolino? Mi manca molto, moltissimo e mi manca anche quella fase dei 3, 4, 5 anni quando cominciano ad essere poco, poco più grandi che quindi parlano e sono buffissimi e sai ti capito di vedere tutti quei video dei bambini proprio in quell'età lì che sembrano pazzi. Sembrano proprio, tu dici, quella è la follia proprio del bambino piccolo che farebbe qualsiasi cosa. Quella fase mi manca molto di Mia perché adesso, per esempio, e anche di Tommy, però Mia è nella fase della preadolescenza, quindi c'è, capito, adesso è un po' più sulla litigata quella... sottile. Sottile. Quindi mi manca quella fase lì. Per cosa litigate con Mia? Sui trucchi perché si vorrebbe truccare sempre. Ah, vorrebbe uscire. La beauty routine. Ah, su quella? Sì, che poi io ho le creme quindi dovrebbe usare le mie invece niente. Non le usa? Kendall Jenner, sai tutte le cose. Però lei vorrebbe tutti i giorni fare delle beauty routine di ore, quindi si cura molto la pelle, è molto brava quindi. Però adesso cominciano, sai, col mascara, le cose, e quindi io dico no, Mia, perché ogni età ha un suo tempo, altrimenti quando hai 14 anni che fai... Quindi questa è la fase, capito, del trucco, del vestito un po' più così, della pancia scoperta. Bisogna un pochino... Trovare il modo. Trovare, sì, la giusta misura per fare capire le cose senza andare fuori di testa perché quella è un'altra cosa che succede spesso soprattutto con gli ormoni dopo che partorisci. Quindi nella prima fase soprattutto ma è una cosa che poi ti accompagna anche dopo. Cioè di quando loro in questa fase di Mia che è preadolescente perdono un po' la testa, cioè ti viene da perdere la testa facilmente perché non sai come tenerli. E invece dicendogli le cose con calma, questo adesso non si fa. Facciamo un'altra cosa insieme oppure... E poi ne riparliamo. Solo che chi ce l'ha il tempo di fare tutta questa cosa e di dire no, guarda adesso... Che mestiere difficile. Io basta! Io vado subito sull'urto. Tu pazita? No, su quella cosa bisogna lavorarci molto perché loro capiscono molto di più quando sei ferma senza urlare. Io vado invece di punizioni, capito? Tipo? Qual è la punizione? Eh beh, il telefonino perché è arrivato adesso in prima media. Io nella mia testa avevo detto non arriverà prima della terza media. Il telefonino io sono diversa da tutte le altre mamme. Sì. E quindi la devo dosare su quello perché comunque questa dipendenza da social di cui si parla tanto è vero che è uno strumento meraviglioso però dall'altra parte bisogna anche saperlo quando sei così piccolo saperlo gestire perché noi siamo più grandi e sappiamo anche quali possono essere i rischi di una diction da social media proprio invece a quell'età lì no per cui io per esempio la costringo a leggere tutte le sere almeno dieci pagine brava qual è il libro? Ma che pizza! Sì perché la lettura è importante e la memoria brava brava è vero ma soprattutto se vuole fare l'attrice tu metti se vuole fare l'attrice devi imparare bene le cose ma tanto ieri sera non c'ero a casa quindi chissà che cosa ha convivato non ha letto secondo me ne ha anche letto ma tu sei tornata a lavorare subito però dopo le due gravidanze? Sì subito dopo tutte e due le gravidanze sono tornata subito addirittura con mia se non sbaglio dopo un mese dalla gravidanza ah subito subito hai fatto il naturale o il cesare? Ho fatto parte in tutti e due naturali ah ok il primo lungo vabbè non ti dico niente adesso dai perché deve essere tutta una cosa gioiosa oddio è a posto non si sente niente mi dicono con Tommy ho sofferto un po' di più ma ti dico è stato bello anche fare i parti naturali poi c'è stato l'aiuto dell'epidurale quindi diciamo non completamente però vivi intensamente il parto però la cosa buona che ti posso dire così almeno te ne dico una buona se no tanto è buonissima è che poi ti dimentichi del parto sì ti dimentichi del dolore sì e ti resta solo il bello ecco diciamo e ti dimentichi proprio quindi perché se uno se io mi ricordo la gravidanza di Tommaso che è stata comunque una gravidanza meravigliosa io ho avuto la mia ginecologa che è stata anche la mia testimone di nozze quindi per dirti proprio Daniela per me è proprio il mio cuore sì con il ginecologo comunque di avere un rapporto speciale di avere un rapporto speciale lei è proprio una persona speciale io ho avuto una gravidanza bellissima però me la sono vissuta cioè il primo parto comunque io l'ho sentito ed è forse anche giusto che sia così se tu ti ricordi quel dolore lì poi probabilmente non ne fai un altro di figlio perché dici ah però e invece e invece no te lo dimentichi subito appena te lo poggiano sul petto per cui poi invece è tutto veramente se tu mi chiedi che tipo di dolore fosse io non me lo ricordo più e con mia invece è stato tutto molto tranquillo è stato un parto sempre naturale però molto molto più veloce e comunque bellissimo quando poi te l'hanno messa addosso cioè la sensazione è sempre quella di totale amore sì subito entri in questa cioè ti passa tutto ti passa tutto magari il dolore che hai potuto provare il fastidio della gravidanza le nausee la paura fino a quel momento io ho avuto una paura pazzesca quando ho scoperto di essere incinta ho avuto una paura pazzesca lo immagino cioè proprio ho detto oddio adesso che cosa si fa da dove inizio tu quando hai scoperto di essere incinta come reagisci anche io come te lì bisogna avere un po' la fortuna forse di avere la persona accanto che in qualche modo ti accompagna insomma immagino che per te sia stato così perché mi sembra che tu sia molto serena in questa gravidanza quindi è importante quello gli effetti gli amici le persone che ti possano coccolare un po' e rendere questo momento di paura un po' meno così faticoso io penso che sia normale averla sarebbe strano il contrario perché è un ti cambia tutto il tuo fisico per le donne è proprio uno shock ormonale ma anche di dici ok adesso esattamente che cosa succede come cambia la mia vita poi cambia ma tutto in maniera naturale non so a me è successo almeno mi sta succedendo così ci sono momenti di fatica di gioia di paura non so per esempio le prime colichette dei bambini ci sono dei bambini che ce li hanno dei bambini meno io mi ricordo che Tommaso le aveva ogni sera alle nove e mezzo tutte le sere urlando che sembrava un'aquila impazzita quindi tu per mezz'ora dici ma cosa cavolo succede ma cosa succede perché veramente con delle urla proprio che poverini loro hanno dei dolori fortissimi e devi imparare anche a gestire quelle cose perché tu dici oddio ma adesso veramente che cosa faccio ci sono delle cose omeopatiche pagliative delle goccine che possono prendere però è proprio la sensazione di avere questo esserino che non parla e che non è che ti dice qual è il problema soprattutto all'inizio come fai a sapere che sono le coliche non lo puoi sapere tu dici che succede alle nove e mezza tutte le sere c'è questo pianto infernale che ti sentono tutti vicini e una mamma è spaventata impaurita non sa cosa fare pensa che possa succedere qualcosa al proprio bambino adesso è la prima cosa che mi è venuta in mente le colichette però è una cosa che credo succeda spesso a quasi tutti i bambini anche quelli che magari non bevono tanto il tuo latte quindi hai la sensazione di non essere adeguata no? sì questo invece non bisogna mai pensarlo perché è la natura che decide per noi e poi loro si adattano a quello che succede e questa è la parte bella veniamo alla parte bella che mi dicevi che è la natura poi che che gestisce queste cose e il contatto fra mamma e figlio è una cosa speciale che che è quasi indescrivibile io non vedo l'ora di vivere questa sensazione è meravigliosa sì lo vedo proprio negli occhi tuoi cioè lo vedo proprio ma anche negli occhi di una mamma o di un papà che è una sensazione troppo grande che non si può neanche raccontare brava anche nei papà perché a volte si parla poco anche della figura paterna ne abbiamo parlato prima quando ci siamo incontrate che tu invece chiedi spesso questa cosa è giusto è giusto perché è vero che è una cosa molto nostra all'inizio però ci sono anche loro in effetti ci sono anche loro qualche volta dobbiamo ricordarcelo ce lo dobbiamo ricordare anche per loro poi lo spavento perché sai si rendono conto che possono fare ben poco perché il contatto fra la mamma e il figlio all'inizio è talmente tanto forte che che loro si sentono un po' tirati fuori esclusi quasi non bisogna scordarsi di loro perché all'inizio è normale che sia così perché c'è proprio questo contatto fra mamma e figlio c'è questo rapporto che è quasi unico fra noi e quindi il compagno si sente un po' messo da parte quindi si dice sempre che il primo periodo è il più difficile nella coppia bisogna cercare di non dimenticarsi certo che comunque sia in due ma tu te l'immagini il giorno in cui Tommy ti dirà mamma me lo immagino te lo immagini? sì sì me lo immagino sarei contenta se lui dipende sempre della sua felicità perché poi la felicità nostra dipende anche sicuramente dalla felicità dei nostri figli quindi cioè già ti immagini nonna? no immaginarmi no perché no ma non mi immagino io non mi immaginavo neanche sposata neanche mamma perché io sono molto maschiaccia quindi quando ero piccola io non avevo il sogno come tutte le altre mie amiche di sposarmi di fare figli no no zero no io immaginavo il matrimonio solo per la festa con gli amici io non volevo questa cosa classica tradizionale quindi non avevo neanche questa predisposizione forse a diventare mamma come tante ragazze proprio se lo sognano da quando sono piccoline no? e poi invece quando è successo ti viene l'istinto materno subito e poi non cambierei una virgola della mia vita e forse sono talmente felice di quello che ho fatto che non cioè che ne avrei voluti forse fare di più a questo punto perché è talmente bello però non mi vedo non vedo tanto il futuro dei miei figli in quel senso lì perché voglio che loro facciano le loro scelte indipendentemente da quello che è il mio pensiero no? però ti dico sono tanto tanto amica con con la fidanzata di Tommaso cioè mi piace questa condivisione con con le donne perché penso anche alla donna e a questo aspetto della mamma del maschio sì che è sempre un po' borderline borderline e invece voglio che non ci sia questa angoscia tu l'hai avuta con qualche suocera un po' hai vissuto questa cosa no mai quindi a me è andata bene e quindi spero che sia la stessa cosa anche con loro tutte suocere buone quindi anche tu sarai non è che voglio fare la favola del mulino bianco tutto per forza perfetto è che non mi è mai capitato forse perché io non sono una che sono molto di carattere molto accomodante solare quindi non non mi è mai capitato di avere dei rapporti difficili con altre donne né tantomeno con le mamme dei miei compagni non mai io anche lo dico sempre io ho un fratello più grande è vero che tu hai un fratello più grande invece poverino io penso che poi alla fine per quanto credo di essere carina simpatica e accogliente c'è quella gilosia che è proprio tra fratello e sorella io questa cosa non l'ho mai provata perché sono figlia unica quindi non la so però me lo dicono tutti e anche mia nei confronti di Tommaso eh sì infatti secondo me lei un pochino c'è nel senso un po' sempre anche se lei va d'accordo però non lo vedi che è sempre il Tommaso che fa che dice ma che cosa ma sei fidanzato quindi se tu mi dici che è così e sei quanti anni avete di differenza noi ho 14 anni ah 14 sì anche lui è molto più grande eh sì Tommaso mi ha 10 quindi sì ah vedi quindi questa cosa non ti è mai passata mai no in realtà poveracce loro no ma in realtà adesso sì perché figurati te l'hai sposato sì sì l'ho visto però c'è sempre quell'elemento ma anche di mia mamma lo vedo un po' perché questo legame tra mamma sorella e figlio o fratello è qualcosa di unico di speciale cioè si crea veramente qualcosa di troppo bello adesso c'è qualche domanda scomoda per te ho rotto la bolla sono tutte scomode non lo so perché mi lasci per andare al lavoro guarda ecco vedi vedi che è cascata a pennello nel senso di colpa e tu che cosa come spiegavi questa cosa io ho sempre spiegato ai miei figli che una mamma felice serena e appagata sul lavoro è una mamma che riesce ad essere più felice più serena anche con loro e l'ho spiegato soprattutto a mia il fatto dell'indipendenza economica che per me è proprio la base è una cosa che insegno anche a lei cioè io le dico sempre è importante che tu abbia la tua indipendenza e che tu non debba dipendere da un uomo perché nella vita non si sa mai poi io comunque ho due figli e mi sono lasciata dai papà dei miei due figli ho una famiglia super allargata e quindi su di me lei lo vede proprio questo che io sono un po' il capofamiglia e quindi le dico questa è una cosa molto importante quindi non devi mai pensare che la mamma ti lascia a casa e ti abbandona la mamma lo fa per noi certo perché è importante avere questa serenità e avere la possibilità anche di fare tutto quello che stiamo facendo e di avere anche una vita felice e anche poter fare delle cose belle condividere delle esperienze in questo senso di colpa non bisogna averlo ma non bisogna averlo mai brava la scusa peggiore che hai inventato per giustificarti quando sono uscita di casa dici la sera cosa ho detto mamma deve andare a fare una cosa importante di lavoro che però erano tipo le dieci di sera io avevo finito di lavorare magari il pomeriggio e ti hanno creduto non ti viene tanto da dire guarda mamma sta uscendo per andare a cena con gli amici che non c'è niente di male però ti senti sempre che capito se dici guarda devo uscire per una cosa di lavoro importante non entrano nei dettagli qual è la situazione più pericolosa in cui si sono andati a cacciare i tuoi figli non lo so io abito a Roma vicinissima al mare e siccome sono cresciuta sul mare io abito adesso in centro però sono nata in un quartiere proprio sul mare io sono sempre andata con mia madre da piccola al mare a fare il bagno anche d'inverno quindi vado al mare spesso anche con i miei figli quando c'è una domenica noi andiamo così e già da piccolini li lasciavo sempre molto liberi mangiando con gli amici chiacchierando così Tommy a un certo punto era scappato perché lui si sente libero andava così e ad un certo punto io non l'ho più trovato perché lui era andato negli stabilimenti vicino è andato a conoscere gente perché i miei figli sono molto socievoli così e è stata una situazione pericolosa perché io non l'ho più trovato mi ha preso un colpo e in quel momento mi sono accorta proprio di quanto poi dopo uno deve essere attento e controllare sempre tutto perché io mi ero presa stavo chiacchierando stavo con gli amici lui era andato a giocare con i suoi amichetti aveva 4-5 anni lì di fronte ma lui essendo così molto libero era poi scappato via e non l'ho più trovato per un po' di tempo ma poco però mi ha preso proprio un colpo adesso mi è venuta in mente quella perché mi è rimasta impressa però ce ne sono mille sempre di situazioni in cui si cacciano sicuramente sì però se pensi a quello che facciano i nostri genitori allora noi adesso siamo molto attenti a tutto mia madre per non svegliarsi e darmi il latte mi aveva costruito mia madre giovanissima mi ha avuto 19-20 anni mi aveva costruito una specie di apparecchio che tipo se io mi giravo così mi arrivava ma stai scherzando non so se lo posso dire perché adesso magari lo mettono così è tipo quello automatico dei gatti che dà il mangiare il gatto io non lo so cos'era lei me lo dice ridendomi Celeste ma noi facevamo delle cose se qualcuno l'avesse saputo veramente avrebbero chiamato qualche associazione ma cosa è uno sistema super innovativo non lo so lei dice io ho creato una cosa per cui tu non mi dovevi svegliare ma non ho fatto un brevetto c'è la svolta della vita altro che puoricultrice questa è una puoricultrice robotica anche un'altra cosa loro avevano affittato un gommone un'estate andavano all'isola del Giglio e mia madre mi ha detto ma noi ti mettevamo avvolta in un asciugamano avvolta te tipo fa otto mesi nove mesi sulla punta di questo sulla prua del gommone dove c'era credo la benzina no? cioè capisci e il gommone io là davanti avvolta nell'asciugamano da lì ho capito tante cose perché probabilmente Alessia Marcuzzi viva per miracolo amici mia madre certa volta mi dice sei sopravvissuto vedi sei forte noi eravamo un po' più spensierati anche quando piangevate tanto è vero che uno adesso noi siamo lì oddio il pianto il pianto il pianto però è vero anche che noi eravamo magari più giovani perché poi si facevano i figli prima no? alla loro età ed eravamo un po' più spensierati a volte delle cose non succedevano perché uno non aveva quella pressione psicologica del terrore capito? addosso poi non è giusto neanche quello però pensa che non esistevano i cellulari pensa che non potevi chiamarlo il tuo figlio cioè dovevi andare a citofonare nelle case o sperare che tornassi all'orario giusto che poi sono stati bravi i tuoi genitori perché tu sei figlia unica e so di tente questa cosa succede col secondo col terzo magari che uno se ne fotte un po' di più no povera mamma adesso quando ascolterà no in realtà lei ve lo racconta ridendo poi non so se è proprio andata così che c'era sta struttura dammi il numero di tua mamma perché voglio sapere questo brevetto del biberon per non svegliarsi io non ce la facevo io ero stanca questo è stupendo vai facciamo un'ultima domanda scomoda cosa faresti se tuo figlio tua figlia trovasse in casa un sex toys oh l'ha trovata ragazzi adesso questa è la mia prefe guarda l'ho beccata adesso ti dico una cosa e tu vuoi il numero di mia madre davvero perché io da piccola l'ho trovata no io voglio parlare con tua mamma la voglio invitare ufficialmente non la sa però cioè cioè raccolta l'ho trovato l'ho trovato nel cassetto di mamma e papà e tu cosa hai detto non avevo capito bene oh oddio poi l'ho capito dopo nel tempo l'hai capito dopo mamma liberi in tutto nel senso che non ho mai sentito una famiglia troppo vabbè ti ho detto tutto dicendoti questa non voglio continuare però in quel caso lì loro non lo sanno quindi è una cosa che ti ho detto quindi tu non gliel'hai mai detto non credo veramente non credo hai tenuto questo segreto fino ad oggi mi sa di sì però quando poi sono cresciuta in quel momento non sapevo cosa fosse quindi sai non ci ho fatto caso poi quando ci ho pensato dopo hai capito dopo ragazzi sono veramente dei geni cioè nel senso mia madre mia madre era in avanti anni luce quindi darò il numero di mamma ma stanno ancora insieme tu hai detto da quando hanno mia mamma 16 anni e mio padre 19 vedi quali sono i veri segreti per una coppia longeva quindi se mio figlio o mia figlia dovesse trovare un sex toys a casa e non posso dire niente questo è bellissimo secondo me non potevamo chiudere in modo migliore questa chiacchiera tale anche perché all'inizio mi avevo detto proprio questo cioè che a me piacerebbe anche parlare con una sessuologa per un momento come questo qua in cui insomma ti ho detto che mi piacerebbe fare un podcast sul sesso sul sesso e sfatare un po' di miti così quindi vedi è tutto perfetto tutto torna tutto torna va bene la chiudiamo così ci vuoi parlare del sesso di gravidanza esatto andiamo oltre no andiamo oltre andiamo oltre guarda con il sexy toys si abbiamo chiuso sono proprio super contenta grazie mille grazie a te mi sono divertita un sacco anche se ho tipo gli occhi che mi lacrimano io non so se sono gli ormoni ma comunque sono continuamente fissa così forse anche l'allergia e non c'è niente che è correlato alla gravidanza o sei emozionata? sì mi emoziono non è il sex toys che mi fa emozionare ma tutto questo racconto bellissimo di immaginare bello golitela tutta questa emozione perché poi è proprio la cosa bella di questo periodo qua di questi momenti no perché è proprio un bel regalo anche che da mamma tu fai a me da futura mamma insomma sapere tutte queste cose quindi ti sono molto grata grazie a te grazie mua 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 grazie a te grazie a te